Il segretario generale, dottoressa Liliana Sada, consegna la fascia tricolore al sindaco dottor Giuseppe Lanzara. Ieri sera si è svolta la proclamazione degli eletti del comune di Ponte Cagnano-Faiano, in primis il neosindaco Giuseppe Lanzara, poi i consiglieri con i cittadini che hanno applaudito alla nuova composizione della maggioranza cittadina. Adesso si inizia a lavorare per la città, con la formazione anche della giunta. Una nuova fase, una fase storica, una fase che vedrà i cittadini al centro di tutto, una fase dove vede una generazione nuova che ha una grande responsabilità, però con entusiasmo e grandi competenze sarà in grado di voltare pagina e di scrivere la storia di questa comunità. Cosa si sente di dire ai tanti cittadini che hanno partecipato, e i tanti cittadini che da domani, da lunedì, cominceranno ad incontrarla in comune. C'è stato veramente un bagno di folla questa sera, inaspettato per una proclamazione che doveva essere un fatto formale, istituzionale, però invece anche questa sera la città ha dimostrato davvero di starci vicino, di accompagnarci in questo nuovo processo. E questo ovviamente in termini politici ci dà ulteriore forza di poter con grande determinazione portare avanti il nostro programma elettorale. Da domani saremo al lavoro di questa comunità, ascoltando tutti, cercando di risolvere i problemi, di non parlare solamente, ma di affrontare tante problematiche con grande determinazione. Cosa l'ha detto il sindaco uscente? Mi ha fatto i complimenti, mi ha augurato un buon lavoro e ci siamo salutati, con grande semplicità. Capitolo giunta, c'è già qualche idea? Quali sono i tempi per il Varo, il nuovo Consiglio Comunale, un po' di date? Ma guarda, sulle date non mi sento di esprimermi, sicuramente però anche da questo punto di vista qui saremo fuori dalle logiche delle trattative, fuori dalle logiche dell'allungamento dei tempi, quindi sicuramente è un'aggiunta rapidissima in tempi super rapidi, perché questa città ha bisogno di essere governata e amministrata. Ovviamente tenendo conto di tutte le esigenze, di tutte le grandi professionalità e competenze che saranno messe in campo. La linea quale sarà? Ci saranno assessori tecnici o pescherà fra i vari candidati o eletti? Io in questa fase, in questo momento, sono abituato ad affrontare le questioni di petto, nel senso che oggi io mi sono insediato, dalla prossima ora inizierò a studiare e a ragionare con la coalizione su quello che sarà la risposta più opportuna da dare a questa città. Sicuramente in tempi rapidi, in tempi molto veloci e sicuramente l'aggiunta sarà espressione di una grande qualità e di una voglia di lavorare davvero giorno e notte, perché questa città ha bisogno di essere amministrata e quindi ci vorrà un impegno notevole.